signori buongiorno e benvenuti sul canale del master care io sono il master care il vostro ospite su questo canale due settimane fa abbiamo parlato dei png del loro punto di vista e di come la visione del mondo di un png dovrebbe essere influenzata esclusivamente dal suo punto di vista e non dal punto di vista soggettivo del master questo è un concetto utile per rendere la verosimiglianza nel mondo di gioco ma in realtà può anche avere degli usi pratici soprattutto quando la raccolta o il possesso di informazioni è importante ai fini della risoluzione delle quest e dato che abbiamo deciso che il racconto che stiamo scrivendo collettivamente per la rubrica scrivere una quest sarà un giallo che è proprio uno dei tipi di storia in cui il possesso delle informazioni da parte dei giocatori è di fondamentale importanza ho deciso che forse è meglio approfondire un po l'argomento nel video di questa settimana in che modo quindi il punto di vista del singolo png può andare a influenzare la raccolta delle informazioni da parte dei personaggi giocanti semplicemente quando si verifica l'effetto chiamato del narratore inaffidabile cominciamo subito col dire che quando si parla di narratore inaffidabile nel gdr ci si fa riferimento sempre ai png non al narratore inteso come master il master dovrebbe cercare di essere sempre più affidabile possibile per non andare a inficiare la sua stessa quest la tecnica del narratore inaffidabile la si trova fondamentalmente in qualsiasi forma di arte narrativa principalmente nel romanzo in cui molto spesso la voce narrante il protagonista racconta la sua storia ma non la racconta da un punto di vista oggettivo e quindi fondamentalmente mente al lettore su quello che sta effettivamente succedendo nel gioco di ruolo nello specifico invece il narratore inaffidabile è sempre un png con cui i personaggi devono avere a che fare per qualche motivo per motivi di storia ma che ha una specifica caratteristica non riporta gli eventi di gioco così come sono successi principalmente i modi in cui un png narratore inaffidabile altera le informazioni che fornisce i giocatori sono tre omissione alterazione e distorsione cominciamo con un esempio in modo a rendere tutto più chiaro dopo aver assistito all'omicidio del loro miglior amico speciale gianni i giocatori decidono che i loro personaggi interrogeranno dei testimoni per farsi un'idea chiara di quello che è successo il primo testimone dice solamente di aver visto il cadavere a terra e un uomo con un coltello che si allontanava era talmente impaurito che si è nascosto lì vicino senza prestare attenzione a cosa succedeva nel dettaglio questo è un caso classico di omissione il png non dice delle cose che in realtà potrebbero essere importanti per i giocatori in questo caso per esempio il testimone non ha detto che l'assassino era mascherato in realtà non ha detto neanche che quello era l'assassino ha semplicemente detto che lì vicino c'era un uomo col coltello il secondo testimone ha visto quello che è accaduto ma non si è reso conto che l'assassino indossava una maschera descrive quindi i personaggi come gianni sia stato attaccato da una creatura con sembianze demoniache questo è il caso dell'alterazione il png racconta quello che è avvenuto potenzialmente quello che è avvenuto è anche vero ma i fatti sono raccontati in una maniera tale che in realtà si rivelano diversi da ciò che effettivamente è successo il terzo testimone ha forti pregiudizi personali contro gli orchi ritenendoli incivili e violenti ha quindi dato per scontato che il colpevole sia un orco e dirà ai personaggi che un orco masterato ha ucciso il loro migliore amico speciale questo è un caso classico di distorsione il png si è lasciato influenzare dai suoi bias personali e quindi non ha raccontato ai giocatori quello che è successo ma ha raccontato la versione che secondo lui è più verosimile di quello che realmente è successo in tutti e tre i casi i giocatori hanno avuto una descrizione diversa dei fatti e nessuna delle versioni che hanno ricevuto era effettivamente quella vera ovvero sia che già mi è stato accoltellato da un uomo mascherato fate bene attenzione che non necessariamente il narratore inaffidabile è tale perché si contrappone per qualche motivo ai pg un png potrebbe mentire spudoratamente per cercare di ostacolare i personaggi giocanti sicuramente ma non è questo l'unico motivo per cui un png debba essere un narratore inaffidabile nell'esempio che abbiamo fatto infatti nessuno dei tre png che facevano da testimoni era un narratore inaffidabile perché stava volontariamente mentendo ai giocatori il primo era semplicemente troppo impaurito e non ha visto bene la scena il secondo l'ha vista ma fondamentalmente non ha capito quello che ha detto e quindi ha raccontato cose che non erano vere e il terzo si è talmente lasciato influenzare dai suoi per i giudizi che ha inserito all'interno del suo racconto degli elementi che esistevano fondamentalmente soltanto all'interno della sua testa tutti e tre erano inaffidabili nessuno di questi stava effettivamente mentendo ai giocatori come si è detto all'inizio ognuno di loro stava raccontando quello che è avvenuto usando esclusivamente il suo personale punto di vista diciamo che questo video lo terminiamo qui tanto avere rivisto Gianni accoltellato già di per sé una soddisfazione ritorneremo sull'argomento tra un paio di settimane per andare a vedere all'atto pratico come organizzare una quest intorno a un narratore inaffidabile settimana prossima invece ritorna la rubrica dello scrivere una quest in cui andremo a vedere quale sarà l'idea iniziale che è stata scelta e cominceremo a lavorare su quali dovranno essere le linee narrative orizzontali che la nostra quest dovrà poi avere fino ad allora come sempre se avete domande dubbi perplessità scrivetemi in un commento qui sotto scrivetemi anche se voi avete usato narratori inaffidabili o se non li usate perché non li utilizzate se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale schiacciate il tasto della campanella e iscrivetevi se volete ricevere le notifiche io sono il master CAE noi ci vediamo al prossimo video ciao